Credo nella musica così come certe persone credono alle favole. Quello che sento è un dono di mia madre e mio padre. Un giorno, tanto tempo fa, si sono innamorati. Che stai guardando? Te. Devo andare. Ti accompagno a casa. No, è complicato. Ehi, ehi. Ascolta, per dare via il bambino. Laila! Dentro di me, io so che mi hanno sempre voluto. Dov'è adesso? Laila! Da quanto tempo sei qui? Sono qui da 11 anni e 16 giorni. Ho tenuto il conto. La musica. Penso che se imparassi a suonarla, loro capirebbero che sono vivo. E mi troverebbero. Non rivedremo mai più i nostri genitori. Se loro non ci trovano, dovremo andare noi a cercare. Che senso ha accartare? Lei non mi sentirà. A solitarla, cerco notizie di mio figlio. Nome? Non lo so. Devi amare la musica più di quanto ami il cibo, più della vita, più di te stesso. Ma che senti Mozart, era un premio giù musicale. Prodigio. Esatto. Ho visto uno di quei cose e vive sotto il mio letto. Perché soltanto adesso l'amore così tanto? Io l'ho sempre voluto. Non dà più calorosa nel mondo! E' come se qualcuno mi stesse chiamando. Sono alcuni di noi che lo sentono. Solo alcuni di noi ascoltano. So che sembra folle, ma io lo sentivo. Dizio che lo sentivo. Fammi scendere, fammi scendere. E' lui. Sai cos'è la musica? Una connessione armonica fra tutte le creature. E' intorno a lui. Non bisogna fare altro che ascoltare. E' lui. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.